Inizia il 7 gennaio a Forlì il porta a porta gestito da Ale Ambiente, la società in-house dei 13 comuni della Romagna forlivese. Per semplificare le operazioni, l'azienda ha deciso di dividerla a città in 5 zone. La prima tranche riguarderà infatti le cosiddette zone A e B, che corrispondono a 29 quartieri e circa 25.000 utenze. Negli ultimi giorni sono stati diversi gli incontri e le riunioni per sistemare gli ultimi dettagli. L'arrivo del porta a porta, come già è successo anche in altre comuni, è stato anticipato da un atteggiamento alquanto incivile, con abbandoni indiscriminati di immondizia collocata spesso fuori dai cassonetti. Una situazione già attesa dall'azienda stessa, che si è subito mobilitata per far ripulire le zone dove ci sono state segnalazioni. Il direttore Paolo Contoa ha fatto sapere che si sta lavorando per tenere sotto controllo la situazione e già da alcuni giorni sono operativi i neturbini di quartiere, un nuovo servizio di squadre che affiancheranno il personale di all'ambiente per la pulizia e poi, quando la situazione sarà normalizzata, al mantenimento dell'ordine. Si ricorda che nella prima fase resteranno anche i cassonetti stradali per permettere a chi non è ancora pronto di organizzarsi. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare il numero verde 800 68 98 98. È possibile inoltre inviare una mail oppure rivolgersi alla pagina contatti del sito internet www.alleatratinoambiente.it È aperta anche la pagina Facebook alle Ambiente SPA. La raccolta nelle zone C e D e Centro Storico partirà invece all'inizio di febbraio.